Buongiorno amiche e amici di Volonbright, io sono Noemi e siamo qua con la protezione civile per una città resiliente al parco delle vallette con Tiziana, la disaster manager della protezione civile. In uno stato di emergenza come ci si muove? Le emergenze si dividono in tre categorie, la categoria A che è un'emergenza che si gestisce a livello locale, quindi il comune può gestirsi in autonomia, di livello B dove l'emergenza è un po' più significativa e quindi forse necessita anche il supporto di un altro ente e l'emergenza di tipo C dove si attiva ovviamente a livello centrale il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Ora dipende da cosa vogliamo parlare, se a livello locale o a livello nazionale. A livello locale ovviamente una città come Torino riesce comunque a gestirla senza avere grosse necessità di creare campi, ovviamente campi come quelli che vengono creati quando in una zona dove c'è stato il terremoto ovviamente sono necessari. Invece per quanto riguarda il supporto che la colonna mobile può dare ad una zona terremotata, facciamo un'ipotesi di questo genere, funziona in questo modo. Si attiva con tutto il meccanismo regolato dal Dipartimento, quindi a livello regionale. parte questa colonna mobile che si autogestisce ovviamente perché arrivando in una zona terremotata non c'è nulla per cui devi essere in grado di mangiare, dormire, avere tutto quello che ti serve per poter fare lì un campo. Poi una volta arrivati sul posto si trova un luogo adatto dove poter istituire questo campo e come quello che per esempio abbiamo fatto noi all'Aquila era un campo che aveva praticamente le tende per noi soccorritori, quindi volontari e noi, più la cucina da campo che era quella che veniva utilizzata per dare da mangiare alle persone che avevamo lì terremotate ed erano circa 500 pasti al giorno. Tra l'altro all'interno del campo era anche stata istituita una tenda per i bambini dove facevano anche una sorta di scuola, gioco eccetera. C'erano ovviamente anche gli psicologi per il supporto alla popolazione e il supporto anche per i soccorritori perché comunque in certe situazioni anche i soccorritori hanno delle necessità psicologiche vivendo in una situazione già difficile. E per voi invece come la vivete un disastro? Noi ovviamente, per quanto mi riguarda parlando personalmente, per le persone che io conosco che fanno questo tipo di lavoro credo che deve essere una cosa che comunque, a parte il lavoro che devi fare, è una passione rispetto al poter aiutare comunque le persone che hanno bisogno e quindi anche tra le persone che fanno questo tipo di attività c'è un rapporto molto particolare, quindi di collaborazione anche a livello affettivo si creano delle situazioni perché vivendo insieme per lungo tempo si creano anche dei rapporti abbastanza forti quindi io, a me è un lavoro che piace molto, lo faccio da più di vent'anni quasi quindi perché... Ottimo! Non ho altro da dire sotto questo punto di vista. Meno male allora! Questa, mi fermo! Grazie allora Tiziana, arrivederci!